E' Aquilana la prima nata del 2018, mentre tutti erano intenti ad aprire bottiglie e festeggiare l'arrivo dell'anno nuovo, dopo due minuti dalla mezzanotte il vagito di una bellissima bimba irrompe nella sala parto dell'ospedale San Salvatore. Una giornalista in erba, la piccola Maura De Rosa, figlia di Cristina Di Stefano e Cristian De Rosa, entrambi giornalisti aquilani. 3 kg e 285 g di amore a fare compagnia al primo genito, il piccolo Matteo. La vita, un segno di rinascita per l'Aquila, la speranza di una nuova nascita nella città della ricostruzione. A far nascere Maura nel reparto di ginecologia e ostetricia dell'ospedale San Salvatore, eccellenza in questo senso e dove si fanno fortunatamente ancora tanti parti durante l'anno, la professoressa Angela D'Alfonso, coadiuvata dal dottor Francesco Filipponi e dagli ostetriche Giulia Lucci e Paola Centofanti. Buon anno allora a questa nuova famiglia, che possa essere di serenità e amore, proprio così come ha iniziato.